buon poveriggio a tutti ragazzi sono in diretta su con record e come avrete voluto immaginare quindi sono su xbox one che ho finalmente acquistato proprio ieri non vedrete la mia faccia quindi per il momento dato che non ho kinect aspettate fatevi chiudere qui il live è partita su twitch perfetto perdonatemi eccomi dicevo non un po diciamo in in cioè non vedere il mio volto per quando ci saranno le tirette su xbox one perché purtroppo non ho il kinect ricor esclusivo xbox one che sto facendo per per la recensione più più che esclusivo xbox one ormai si deve parlare secondo me di esclusiva microsoft dato che sappiamo benissimo il gioco esce anche su windows 10 quindi ormai diciamo che esclusiva xbox play anywhere il gioco creato da kichi nafune che è il creatore di megaman perché non lo sapesse recentemente ha pubblicato con il suo team concept ha pubblicato il mighty number nine che è appunto l'erede spirituale di iron e di iron mensuale di megaman con risultati tutt'altro che brillanti purtroppo dicevo il gioco stato creato da lui con in più la partecipazione di armature studio che se non mi sbaglio sono gli stessi che hanno curato al loro tempo anzi che hanno realizzato al loro tempo batman arkham origins black gate che era praticamente il il gioco di dedicato a batman che è uscito in contemporanea a batman arkham arkham origins appunto ma era il titolo riuscito praticamente sul console portatile su ps vita che poi successivamente è stato rimasterizzato sul console fissa se non mi sbaglio sono loro se ricordo bene però potrei anche sbagliarmi anzi se vi ricordate bene segnalatemelo in chat quindi loro praticamente si sono occupati dello sviluppo mentre in nafune credo tutta la direzione del gioco il concept e tutto il resto insomma è stata una doppia collaborazione il gioco venne presentato alle 3 del 2015 è stato poi mostrato nuovamente alle 3 del 2016 e all'annuncio aveva tirato molte attenzioni mentre aveva un pochino lasciato i giocatori così straniti quando poi venne mostrato veramente il gioco perché molti si aspettavano qualcosa di profondamente diverso invece mi sono trovati un gioco e probabilmente non li aveva soddisfatti sotto dal punto di vista visivo perché io stesso mi aspettavo un gioco dallo stile grafico molto molto differente un gioco molto più come dire no semplice ma più cartonesco ecco non così realistico tra virgolette allora il gioco devo dire sembra io sto questo è l'inizio non è non solo non sono andato così a fondo col gioco perché intanto fatemi vedere ragazzi segnala ditemi in chat se la qualità è buona dello streaming perché appunto è la prima volta che faccio il live su xbox one quindi datemi feedback un pochino in chat per favore e così insomma mi rendo conto anche per i prossimi live perché ho messo qualità massima però xbox mi consigliava di mettere qualità una qualità leggermente inferiore però dato che con la qualità massima posso fare dopo cioè insomma l'hd ho preferito insomma aumentare un po la qualità quindi ditemi voi in chat com'è la situazione intanto sto bestione si sta nascondendo non so dove sto qua adesso vi spiego pure un pochino il gameplay e tutte le meccaniche del gioco voi intanto se volete fatemi domande in chat qualsiasi cosa come sempre stavo dicendo insomma molti si aspettavano un gioco molto diverso io stesso come dicevo è stato un gioco più cartonesco invece graficamente tende al realismo con ovviamente le dovute differenze però il gioco comunque molto almeno per il momento mi sta divertendo molto anche se ci sono alcuni problemi tecnici che non mi fanno impazzire devo essere onesto adesso tra l'altro sto facendo un dungeon una missione secondaria in un dungeon poi dopo c'è tutta la mappa di gioco perché il gioco ha una struttura open world comunque simile open world il gameplay è anche abbastanza interessante devo dire non è così così malvagio ecco allora a me ogni tanto il live dato che ho la chat praticamente proprio su schermo voi però credo che non la state vedendo la chat su schermo dicevo diciamo ogni tanto mi dice ci sono problemi di lag però cavolo non me ne sono accorto questi grandissimi bastardi ragazzi comunque questo è solo l'inizio con le dirette su xbox one perché poi uscirà anzi non uscirà c'ho anche forza horizon 3 e x... scusate NBA 2k17 da farvi vedere su xbox one quindi diciamo ormai si inizia ormai diciamo posso coprire tutte le console possibili e immaginabili quindi aspettatevi tanti 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 live allora che dire del gioco è una sorta di shooter anche se definire lo shooter in terza persona secondo me è un po' esagerato perché non siamo di certi livelli di un Gears of War ecco il metro di paragone più adatto è almeno per quanto secondo me è un po' la saga di Ratchet e Clanko come come spirito diciamo nel senso che è più un archedozzo tutti gli effetti infatti vedete c'è c'è la mira automatica c'è il bloccone vedete automatico e tutto il resto quindi siamo più su quella via lì e il gioco mischia elementi platform e elementi... elementi action oltre e inoltre ad alcuni elementi diciamo da crafting e altri come dire RPG diciamo così poi dopo vi farò vedere tutto il sistema di crafting di creazione di modifica del personaggio e tutto il resto adesso finiamo questa missione e vi ricevo il gioco inoltre questa è una cosa che non mi ricordavo dall'innews il gioco è una sorta di open world perché in pratica c'è la mappa c'è la mappa abbastanza grossa devo dire poi dopo ve la faccio vedere anzi adesso metto vado nel menu del gioco e ve la faccio vedere e quindi posso decidere tranquillamente se andare direttamente alla missione principale o come sto facendo in questo caso se andare a fare una missione secondaria allora fatemi vedere un attimo qui come è la situazione intanto c'è l'obiettivo secondario che finirà la missione entro pochi minuti ma questa è una cosa che non rispetterò mai perché io mi voglio prendere tutto il tempo di cui ho bisogno dicevo lei il personaggio si chiama giul se non mi sbaglio praticamente se ho capito bene perché la storia ancora non si sviluppa tantissimo è una specie di meccanico non so neanche come definire del deserto perché praticamente il mondo è stato stravolto da una sorta di tempesta di sabbia che è appunto cambiato la fisionomia del pianeta del pianeta e quindi giul a un certo punto si si trova qui e deve deve svolgere il suo lavoro ed è in compagnia di questo robottino chiamato mech poi dopo credo che più amanti se ne sbloccano gli altri e quindi come fare qui a passare dicevo in compagnia di questo robottino di nome mech che praticamente l'aiuta in combattimento e anche in alcune mansioni come ad esempio cercare i nuovi oggetti in giro e così via poi dopo vi farò vedere comunque tutto non vi preoccupate la particolarità di mech di questo robottino a forma di cane è che lui praticamente può essere modificato nella base ci sono una serie c'è un banco da lavoro ma se io non devo salire qua cacchio devo andare c'è praticamente un banco di lavoro appunto dicevo c'è un banco di lavoro dove io praticamente posso andare a come dire creare nuovi pezzi di mech appunto e farli indossare infatti se vedete bene lui c'ha praticamente il corpo grigio la testa rossa perché ci ho messo pezzi pezzi diversi appunto all'inizio lui è tutto giallo poi io prima ho sbloccato nuovi pezzi e praticamente io ho cambiato perca miseria non ho pensato a questa cosa benissimo stavo controllando un attimo se è live sta andando bene ragazzi a me sembra tutto a posto io però vi invito come sempre datemi feedback in chat così poi magari la prossima volta evitiamo evitiamo altri problemi ecco come vedete Jule è dotata di un mezzo jetpack se così vogliamo definirlo che praticamente le permette di fare un doppio salto e di fare questa specie di dash in avanti così lei praticamente può fare schivate ma anche appunto librarsi librarsi in aria adesso dobbiamo andare lì mi sa quindi facciamo così fermo no dobbiamo andare qui è impossibile invece no e quindi dov'è che dobbiamo andare ragazzi io forse dopo ancora non voglio dare la certezza perché potrei davvero mettermi in questo gioco e dedicarmi di ricarichi tutte le weekend però io ho intenzione di fare un altro live dopo più tardi su o NBA o Forza Horizon 3 vedrò insomma ce ne rendiamo conto stesso durante durante questo live e ci organizziamo poi di di conseguenza ce la fa ce la fa si che ce la fa ah qua ce la fa qua ce la fa ok abbiamo aperto la porta perfetto speriamo bene vedete comunque c'è c'è una spiccata componente platform devo dire il gioco comunque a punto di vista gameplay almeno in queste prime ore del gioco sembra esserci assolutamente tecnicamente però ci sono alcuni problemi texture in bassa definizione ombre ombre poco definite anche anche diciamo l'impatto generale non è granché comunque c'è tecnicamente non stiamo parlando di un gioco eccesso tutt'altro anche problemi di frame rate e problemi di caricamento tra l'altro i problemi di caricamento da quel che ho capito comunque dovrebbero essere risolti entro oggi perché al momento non è disponibile ma credo sia disponibile solamente nel territorio americano comunque deve uscire una patch di ecco avete visto qua un brutto calo di frame dovrebbe uscire mamma mia come sta scattando dovrebbe uscire in giornata un nuovo aggiornamento che appunto aggiusti i problemi i problemi di caricamento perché a me non mi è capitato devo essere onesto però se hai visto un video su forse era twitter non mi ricordo adesso di preciso forse era twitter comunque c'è anche la news su console drive dove un utente moriva e praticamente doveva aspettare ben due minuti prima di tornare nella partita a me questo non mi è capitato nel senso che sono morto ho aspettato un pochino ma non sono arrivato a due minuti però il problema c'è il problema c'è posso dirlo comunque ho aspettato se non due minuti un minutino crederò o poco meno comunque crederò che l'ho aspettato quindi comunque non è poco perché di solito ormai in questi giochi come muori subito rinasci mi viene a mente un charted perché che muori rinasci praticamente all'istante ecco sì io c'ho una maniera di obiettivi secondari ma io qua non ne sto facendo uno sicuramente questo è un dungeon secondario non è uno principale poi dopo finiamo questo qui e ci dedichiamo a una qualche quest principale allora devo aprire la porta però per aprire la porta dove che devo andare dove sta l'interruttura di là parca miseria ok eccolo qui infatti la porta è aperta muoviamoci allora ok io mi immagino la vostra tristezza nel non vedere più la mia faccia ragazzi lo so che è un brutto colpo però credetemi ne guadagnate di salute lo so mi dispiace un po' però a parte gli scherzi la console ho presa ieri perché è uscito ieri appunto l'Xbox One S con FIFA 17 c'è il bundle quello da 500 giga e quello da 1 terabyte ho preso quello da 500 giga perché appare il fatto che sono sempre stato abbastanza bravo a gestirmi lo spazio su una console infatti c'è una PS4 Day One presa il Day One appunto da 500 giga e devo dirvi non ho mai sofferto troppo la mancanza di qualche giga in più ecco quindi io devo passare per di qua comunque diciamo che non ho mai sofferto certo un HD più grande non mi dispiace però non ho mai sono sempre stato abbastanza bravo a gestirmi di questo questo spazio non è vero che anche su PS3 io avevo una console da 80 giga avevo il modello da 80 giga su PS3 ci sono andato molto molto tranquillo devo dire ah cavolo ho sbagliato certo la lunga distanza un pochino lo soffre il problema però io devo dirvi anche perché io sono il tipo che finisce un gioco e ne inizia un altro non sono il tipo che porta avanti 10.000 giochi alla volta certo è che da quando sto scrivendo tante recensioni sul tribe questo problema a volte di iniziare un gioco e finirlo non mi viene così facile da fare però dai direi che come dire dai che ci arrivi dai che ci arrivi grande però devo dire almeno per quando dipende poi dai giochi certo se mi capire un Forza Horizon quello difficilmente lo disinstallo se mi capire un gioco come ricordo finisco e lo disinstallo ovviamente quindi dipende da gioco a gioco diciamo così dai comunque ho preso quello da 500 giga per due motivi prima di tutto perché come ho detto sono bravo abbastanza bravo a gestirmi lo spazio su console e seconda cosa perché per me Xbox One dato che ho già PS4 dovrebbe essere una console di affiancamento di di quella principale che è PS4 questo non vuol dire che Xbox One è inferiore no semplicemente io ho più giochi su PS4 ne ho tantissimi ancora da iniziare figuratevi quindi probabilmente giocherò di più su PS4 e su Xbox One poi ovviamente se mica avrei gioco su Xbox One da recensire ovvio che lo gioco lì senza problemi però diciamo sono andato a prendere un 1,5 giga perché perché almeno sulla carta dovrei utilizzare meno l'Xbox One rispetto alla PS4 quindi se riesco a stare stretto fino a un certo punto con se mi trovo bene con l'HD da 500 giga su PS4 non vedo perché non dovrei riuscirci anche su anche su PS4 su Xbox One quindi su questo motivo poi ovviamente la grandezza dell'hard disk dipende da persona a persona perché se siete i tipi che portano appunto a differenza mia un gioco prima di cioè iniziare un gioco e ne cominciare un altro portano avanti più giochi contemporaneamente e lì forse comincerete a stare un pochino stretti lo capisco quindi dipende molto da voi qua se avete solamente una console da prendere quindi Xbox One più conviene magari prendere quella da un tera su questo non mora non ho capito perché era un muore oh finalmente allora adesso vi spiego anche un pochino il gameplay facciamo un combattimento e ve lo spiego comunque il combat system è abbastanza semplice con le due le due ormai l'abitudine con il grilletto sinistro fate il lock on sul nemico con il grilletto destro sparate il colpo normale col tasto dorsale destro quindi con RB potete tenendo premuto il tasto potete fare l'attacco più forte quello speciale diciamo il personaggio non ha munizioni nel senso che non è che ho 30 munizioni 40 munizioni come capire in tutti i giochi semplicemente semplicemente adesso ve la faccio vedere comunque c'è quella barra sotto il mirino che praticamente indica le munizioni quindi ogni tanto dovete farle ricaricare ecco tutto qui insomma niente di complicato ecco le no adesso non si vede però quando sparo i nemici si vede l'indicatore è tutto qui ragazzi il gioco è abbastanza semplice dal punto di vista quando riguarda il giocato però è proprio comunque vedete allora vedete qui praticamente la situazione è questa questo è un dungeon secondario oltre all'obiettivo principale è quello di arrivare in fondo ovviamente però quello però aveva una serie di obiettivi secondari come raccogliere tot anzi attivare degli interruttori e un altro che è praticamente finire il dungeon entro 9 minuti se non mi sbaglio quindi vedete io qui praticamente ho fatto un solo obiettivo perché l'altro era raccogliere se non mi sbaglio un nucleo giallo che è questo qui che ho fatto se li facevo tutti e tre gli obiettivi secondari sbloccavo le porte e sbloccavo anche questo dispositivo la cassa quindi magari potevo ottenere merce più più preziosa diciamo così quindi magari la prossima volta cerchiamo di fare l'obiettivo secondario eccolo lì vedete quell'indicatore quello rosso adesso è rosso perché io praticamente sto usando un tipo di munizioni più particolari se no vedete è bianco eccolo qui e niente ragazzi praticamente fa il lock on è automane quindi basta mirare i nemici e colpirli solo che ovviamente è troppo semplice in questo modo poi ci sono tutta una serie di sistemi che vi farò di meccaniche anzi che vi farò vedere tra pochissimo appena mi capita qualche combattimento comunque tutto riguarda comunque questa meccanica riguarda praticamente il colore dei nemici quindi i nemici hanno diverso colore hanno colore bianco blu giallo e rosso se non mi sbaglio voi a seconda del colore dei nemici dovete utilizzare un particolare tipo di munizioni per fargli più danni quindi se il nemico è rosso usate le munizioni di colore rosso e gli fate ancora più danni se il nemico è bianco usate quelle di colore bianco e così via io adesso ho sblocato solamente le munizioni bianche e rosse le bianche sono quelle che il gioco già ti dà dall'inizio quelle rosse invece le ho raccolte le ho trovate ricominciare ah vedete posso anche ricominciare il dungeon però no direi no così andiamo avanti che fatemi vedere qui intanto va tutto bene mentre aspettiamo i carriamenti ecco adesso potete ricaricamenti sono un pochino lenti la qualità mi sembra buona ragazzi mi sembra ci sia non ci sono problemi durante il live adesso si perché a me ogni tanto l'xbox mi dice si è verificato un problema però comunque sul computer qua a fianco ho lo schermo quindi non non evito problemi forse qualche micro lag però dai non mi sembra una cosa troppo troppo trattata ecco un caricamento un po' continuo infatti a caricare fatemi vedere fatemi finire qui così mi sembra un problema dai posso stare eccolo qua il micro lag non mi sembra niente di particolarmente fastidioso poi magari ve lo fate sapere voi in chat se ci sono problemi magari la prossima volta mi ricordo di abbassare un po' la qualità del live la prima avevo visto le ombre veramente brutte da vedere ve lo giuro prima c'erano le ombre orribili tutte seghettate pixelate brutte 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 allora volevo farvi vedere la mappa prima di tutto eccola qui questa è la mappa di gioco vedete qua sulla mappa beh queste zone ancora non le ho visitate è abbastanza grossa comunque queste zone ancora non le ho visitate alcune zone ovviamente tipo queste queste io sono all'inizio del gioco ragazzi non sono così avanti diciamo che ho sbloccato da pochissimo la mappa diciamo così poi vedete qua ci sono i vari dungeon questo mi consiglia il livello 25 vedete richiede il livello 25 ok poi ce ne sono altri ad esempio appena fatto questo dungeon qui qui c'è il nucleo io direi di tornare indietro tornare allo spazzaterra allo spazzasabbia scusate così vi faccio vedere tutta la base che è l'hub di gioco praticamente vi faccio vedere anche come funziona il sistema di potenziamento del di mech allora io spero io ho qualche dubbio ce l'ho sul gioco perché di base comunque mi sta piacendo il concept di gioco è abbastanza classico però fatto abbastanza bene almeno una cosa che mi preoccupa è la parità di gioco e tutti questi elementi qui perché spero di trovare altre armi perché se mi dai sempre quell'arma il gioco comincerà ad annoiarmi poi si sbloccheranno altri robottini più avanti quindi bisogna vedere anche lì come come verrà gestito il tutto insomma e la varietà comunque con gli altri robottini cambierà molto poi io spero che mi sblocchi un robottino su cui io posso salire in groppa per navigare più velocemente nella mappa che altrimenti anche la navigazione anche viaggiare sulla mappa diventa un po' noioso secondo me comunque avete visto ho fatto i trasferimenti di tutti gli oggetti che ho raccolto qui durante la missione principale adesso le ho depositati praticamente allora questo è l'hub di gioco ragazzi alla fine non c'è nulla di particolare la cosa più importante è almeno finora la cosa più importante che mi ha spiegato il tutorial è il banco da lavoro allora praticamente durante la partita voi raccogliete nuovi schemi i classici schemi per poi fabbricare nuovi oggetti quindi andiamo a schemi per prorodi per esempio adesso ci sono vedete ci sono in tutto 5 robottini io adesso ho solamente il caffanovo che sarebbe mech vedete qui ci sono praticamente tutti gli schemi ecco lì qua vedete c'è la testa le gambe e così via no? alcuni non li posso costruire perché evidentemente mi mancano le risorse infatti però altri sì comunque posso costruire questo ad esempio lo posso costruire comunque ogni schema per essere costruito richiede un certo numero di risorse che sono scritti di materiali che sono scritti indicati molto esplicitamente lì i materiali raccoglieti uccidano i nemici esplorando il classico voi quindi create lo schema e poi lo dovete equipaggiare sul robottino cioè da qui nucleobot vedete prendiamo mac che è a livello 9 e volendo ci potete mettere i vari pezzi per esempio qui ci posso mettere questa testa no questa testa gialla che però mi abbassa la salute un poco vedete comunque è debole questa testa la cosa bella comunque che queste modifiche vanno a toccare anche l'estetica del robottino a me questa è una cosa che comunque piace sempre è una cosa che fa molto piacere vedere vedete quindi andiamo qui ci posso mettere vedete il corpo rosto poi ogni corpo vedete c'è una serie di modifiche bonus malus tutte queste cose qua insomma vedete insomma così come per le gambe va bene poi c'è anche il nucleo al centro ok in più adesso vedete ci ho messo il corpo rosso perché era un equipaggiamento migliore che io però avevo costruito vabbè non me ne ho raccorto e poi ci sono i nuclei con il quale io praticamente posso spendere i nuclei che ho raccolto durante la durante i combattimenti con i mostri che poi è una cosa che vi farò vedere come funziona la raccolta di nuclei ovviamente ve lo farò vedere e vedete io da qui volendo posso potenziare l'attacco la difesa o l'energia con i tre diversi nuclei quindi rosso giallo e blu ok io direi che possiamo andarcene anzi no fatemi modificare un po' l'attacco qua di di mech dai modifichiamogli un po' l'attacco tanto fortunatamente dei nuclei rossi finora ne ho trovati a sufficienza devo dire va bene dai accetta modifica ok ok io il live lo vedo bene se ci sono problemi se avete problemi io comunque lo vedo bene se a parte qualche lag probabilmente i lag sono ripesi un po' da mese se ce ne sono però in generale a me il live va bene quindi ragazzi se ci sono problemi forse anche un po' la vostra connessione magari abbassate un po' la qualità non so che volevo dirvi mentre aspettavo i carriventi ragazzi un po' di recensioni su console drive innanzitutto c'è la mia recensione di batman the telltale series del secondo episodio che abbiamo visto in live l'altro giorno c'è l'handzone dedicato a for honor che ho pubblicato ieri si ho pubblicato ieri e poi c'è anche la recensione di metroid prime federation force che invece accura il nostro marco allora qui ci sono vedete dei robot e adesso li andiamo a combattere così faccio vedere come funziona il sistema io adesso sto utilizzando le munizioni di colore bianco vedete loro hanno il colore rosso quindi io volendo cambio colore cambio colore dell'arma e li posso sparare e fargli più danni ecco qua vedete quando vi fate un certo numero di danni voi potete estrarre il loro nucleo per estrarre il loro nucleo basta premere la levetta analogica a destra e vedete sfracerete praticamente questo spazio di tiro alla corda tutto qui ragazzi voi raccogliere dei nuclei voi potete utilizzarli per potenziare per potenziare mech tutto qui niente di complicato ecco ovviamente ci sono i nemici più potenti altri che hanno le corazze insomma le solite cose però il sistema di raccolta nuclei è abbastanza semplice poi voi dovete anche decidere quando e come raccoglierli i nuclei perché se siete circondati dai nemici magari li uccidete direttamente e poi raccogliete i nuclei degli ultimi due o tre robot che sono rimasti e invece è uno scontro uno contro uno da risultare raccolta di nuclei senza problemi insomma dipende un po' anche dalla situazione e poi estraendogli il nucleo uccidete il mostro ovviamente adesso cambiamo insomma la mappa il problema più che altro ragazzi del gioco è l'ottimizzazione perché ci sono tanti caricamenti è dato che ogni caricamento dura tanto vedete stiamo perdendo comunque un po' di tempo secondo me devono un pochino ottimizzare devono ottimizzare un po' il gioco perché passare ogni torno da una parte all'altra così è un po' fastidioso c'è tra l'altro il viaggio rapido ci sei il viaggio rapido ci sono dei dei punti specifici dove attivare il viaggio rapido e passare da una parte all'altra insomma il solito comunque che altro volevo dirvi preparatevi con Xbox One a una bella serie di live perché io dovete sapere che io devo fare un mio colpa in questo caso ho saltato completamente la generazione di Xbox 360 per tutta una serie di motivi comprei PS3 un po' tardi quindi insomma cominciavo ad utilizzare quella poi era arrivato il momento in cui stavo per dire ok mi compro Xbox 360 poi che cosa è successo che hanno annunciato PS4 e Xbox One e hanno detto vabbè magari se trovo 360 a pochi euro magari la recupero e insomma mi gioco quelle esclusive che purtroppo ho saltato all'epoca stavo per fare stavo per comprare 360 a un certo punto perché l'avevo trovata davvero a poco a un certo punto però Microsoft che fa annuncia la retrocompatibilità annuncia la retrocompatibilità e dico vabbè ad questo punto aspettiamo un altro poco mi prendo direttamente Xbox One magari ecco invece di aspettare più tempo prendevo 360 poi magari aspettavo più tempo per prendere One ho detto magari appena esce la Slim mi prendo Xbox One perché avevo problemi anche di spazio invece la Slim devo dire è molto molto piccola diciamo più o meno come dimensioni siamo le dimensioni sono paragonabili a quella di PS4 PS4 normale quindi vabbè mi sono trovato quindi aspettavo la Slim finalmente è uscita ieri credevo di non trovarla perché ecco io qua dovevo fare una piccola critica a Microsoft ti lamenti che Microsoft si lamenta però sotto sotto gli dà affassire il fatto che la console vende poco rispetto a PS4 o meglio ha venduto perché adesso non so cosa succede con PS4 Pro e tutto il resto però Slim sta fare e stia vendendo bene c'è però anche da dire una cosa almeno quando riguarda la mia città io sono a sud sono a Benevento in campagna quindi magari da altre parti la cosa è diversa non lo so anzi ditemelo voi magari si avverete in città più grandi Microsoft comunque ha distribuito ragazzi poche poche unità di Xbox One S per farvi un esempio al Media World della mia città dove ho acquistato la console Microsoft ha distribuito solo 4 ripeto 4 4 4 console vedete questi nemici sono più forti adesso a me non mi conviene fare l'estrazione del 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 nucleo quindi magari elimino prima uno e poi estraggo il nucleo di quest'ultimo ah tra l'altro voi potete anche ah porca miseria l'ho ucciso vabbè non fa niente tra l'altro voi potete anche dire a Mac di attaccare il nemico però ve lo faccio vedere comunque fa un attacco una specie di attacco di sfondamento stavo dicendo comunque Microsoft sta distribuendo poche unità secondo me di questa Xbox One S perché appunto il mio Media World dove l'ho presa ha distribuito solo 4 cioè ragazzi è un po' poco devo dire di cui 2 da 500 giga e 2 da 1 terabyte e io tra l'altro ero il primo ad acquistare la console ed ero andato tardi cioè ero andato alle 9 di mattina quando sono aperti i negozi 9-9 e mezza insomma e non c'erano ho detto vabbè mi sa e mi sa che questi dato che ci stava tipo il GameStop ragazzi le ha prenotate tutte ho detto magari pure qua le hanno finite già pure da Media World quindi le tengono già tutte prenotate che vado a chiedere al commesso dico ma le prenotate tutte no no vedi che mi devono arrivare deve ancora arrivare il tir benissimo cioè questi deve uscire la console e ancora non tieni il tir pronto ancora non arriva il tir vabbè e quindi sono andato il pomeriggio verso le 4 3 metri insomma sono andato a prendere la console ma la cosa che mi ha stupito ero ragazzi che GameStop vabbè le aveva prenotate tutte le console da altre parti non è poco arrivata in altri negozi nella mia città ci sono c'è comunque Expert Troni e compagnia cantante quindi i negozi di eltronica ci sono l'unico che ci manca è un euro purtroppo e altri negozi ragazzi non ce l'avevano è incredibile se non è necessario ne ha distribuito davvero poche di unità poi ci credo che Microsoft dice eh abbiamo fatto il sold out cavolo grazie ne ha distribuito i 4 in un negozio comunque abbastanza importante come Media World cavolo poi vi sono informato anche se mi tramite il commesso dei negozi mi sono informato un pochino su quanti console hanno distribuito quelle da 2 terabyte perché anche quelle ricordate praticamente adesso sono introabili Xbox possono essere 2 terabyte l'ho chiesto giusto per curiosità perché come vi ho già detto non mi interessava avere la console 2 terabyte ho chiesto un pochino e mi ha detto no vedi che di console da 2 terabyte anche lì ne abbiamo ricevute pochissime se non mi sbaglio 3-4 non mi ricordo abbastanza poche non l'ho chiesto a Media World in questo caso l'ho chiesto a un altro negoziante però comunque ne hanno ricevute poche anche di quelle quindi ci credo insomma che c'è stato il sold out io un po' faccio voglio fare una critica a Microsoft perché tu vuoi vendere la console però intanto non la fai trovare nei negozi cioè per questo caso due se le cose o vuoi mantenerti al momento stretto e poi cominci a distribuire più unità oppure che cavolo ne so Xbox One S è uscita prima del previsto ragazzi io ho anche questa sensazione qui comunque intanto vi faccio vedere una piccola notazione guardate qua aliesing le ombreggiature guardate ragazzi è brutto 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 cavolo dicevo le cose secondo me sono due allora o Microsoft ha fatto uscire Xbox One S prima del previsto nel senso che mi sono trovati con la cosa di PS4 Pro e compagnia cantante insomma di Sony ha detto anticipiamo un pochino i tempi anticipiamo un pochino Sony magari riusciamo a fregare qualche unità quindi loro che hanno fatto hanno fatto uscire Xbox One S a 2TB proprio le prime le prime console uscite secondo me dalla catena di distribuzione cioè più di quelle secondo me Microsoft non ne poteva fare ha anticipato un po' i tempi e ti facciamo uscire la console ad agosto e poi piano piano lanciamo le altre unità e quindi cosa è successo che quindi quelle 2TB sono finite subito perché praticamente Microsoft ne ha create cioè ne ha prodotte poche e adesso piano piano sto cominciando a rimpolpare i negozi con quelli con gli altri modelli di console e insomma adesso è uscito quello di FIFA poi ci ricordo che esce intanto c'è un altro danno ci possiamo entrare poi andiamoci a fare la missione principale magari sblocchiamo un altro robottino secondo me poi ci ho detto stavo dicendo scusatemi c'è il 5 ottobre se non mi sbaglio comunque inizi di ottobre principi di ottobre c'è Xbox One S con Gears of War 4 in quel caso quello è il modello limitato intanto qui vi faccio vedere qui c'è il viaggio rapido quindi volendo andate qui andate qui e poi scegliete dove volete trasportarvi insomma è classico stavo dicendo che stavo dicendo ah esce Xbox One S con Gears of War 4 adesso quindi tra un paio di settimane insomma a ottobre se non mi sbaglio il gioco esce 11 ottobre il bando l'hanno anticipato di qualche giorno per dare la possibilità ai giocatori di fare il preload perché anche con FIFA io FIFA 17 l'ho già scaricato però non posso avviarlo perché appunto c'ho il preload e il gioco me lo sblocca poi più avanti mi viene sbloccato quindi quando esce il 28 29 non mi ricordo adesso quando è poi esce ricordiamoci che esce ah ecco vedete quando vi dicevo che l'estrazione a volte vi conviene non farla perché adesso non sono attaccato da altri intanto vedete dico al mech di attaccare gli avversari ecco vedete praticamente io tengo premuto il tasto y e dico a mech di attaccare vedete lui c'ha le scariche vedete in alto a sinistra ci sono due barre di energia c'è quella del mio personaggio e poi c'è quella di mech in alto sopra quella di mech ci sono anche delle piccole sfere blu dei piccoli indicatori blu che indicano praticamente il numero di attacchi speciali che può fare quindi poi ci sta poi il bundle anzi di xbox 1s con battlefield 1 il 21 ottobre secondo me lì si cominceranno a smuovere un pochino le vendite si cominceranno un po' a smuovere e poi vabbè chi ci sa più poi sicuramente ci saranno altri bundle particolari non lo so tipo Sony adesso fa uscire il bundle uncharted 4 più rise of the tomb raider per dirvi insomma quindi ci saranno diversi bundle sicuramente poi variano da gioco a gioco magari i bundle con tutta cavolo ne so la saga di halo per dirvi insomma queste cose qua insomma è solito chi è che spara chissà quante ce le hanno finite qui nella mia città le console chissà alle 4 e mezza del pomeriggio ero il primo miseria c'è un po' ci sono rimasto perché non me l'aspettavo il commesso mi ha fatto complimenti sei il primo grande poi ecco un'altra cosa che volevo dirvi di cui volevo parlare un po' meno che molti in redazione comunque ci capila di parlarne di acquistare la console o meno in molti mi dicono Luca ma non ti conviene aspettare Xbox Scorpio a sto punto che te frega io preferisco non aspettare per un semplice motivo allora se confermano il fatto che Xbox Scorpio sarà alla fine una semplice Xbox One potenziata quindi un Xbox One fatta per permettere agli stessi giochi senza le esclusive di girare 4k chi me lo fa fare cioè io dato che non ho intenzione di sfruttare il 4k non ho intenzione di acquistare uno schermo 4k perché al momento non ho lo spazio per mettere uno schermo 4k in camera mia perché devo andare perché devo buttare i soldi tutto qui e quindi ho detto no io vado ad Xbox One S tranquillamente io volevo la Slim aspettavo il morello Slim perché servivano queste dimensioni intanto abbiamo sbloccato un obiettivo grande e insomma io per questo motivo sono andato su Xbox One S poi ovviamente se qualcuno mi dice che dici aspetto Scorpio o prendo direttamente adesso la One S ragazzi dipende da voi se come me non vi interessa il 4k magari andare su One S perché secondo me One S è un'ottima console comunque i giochi ci sono adesso ma certo se uno vuole il gioco sul pc se uno vuole il massimo della grafica può andare anche sul pc perché ricordiamoci adesso col fatto che i giochi escono su tutte e due le piattaforme io che abborro abborro come si suol dire insomma il gioco sul pc guardo sempre di console dipende comunque dicevo da voi se volete il 4k magari aspettate Scorpio o anche se è scalato e tutto il resto insomma solo il discorso potete anche andare su PS4 Pro intanto guardate quanto sono brutte le texture qui delle rocce andate su Scorpio o PS4 Pro che esce il 10 novembre se avete uno schermo 4k perché secondo me se dovete prendere PS4 Pro e acquistarvi insieme alla PS4 un televisore ragazzi secondo me se ne ho un mezzo patrimonio non so quanto vi convenga poi ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi ovviamente dicevo da voi se invece volete di basso il full HD perché come me non avete spazio perché non volete spendere soldi per un televisore andate tranquillamente di One S o PS4 Slim insomma la scelta aspetta semplicemente a voi io ho valutato così ho valutato poi ognuno ovviamente da persona a persona può prendere la sua decisione poi io ricordatevi un'altra cosa io ho PS4 Xbox One perché scrivendo per la redazione ci arrivano i giochi quindi diciamo che io spendo relativamente poco in videogiochi all'anno diciamo che ormai spendo davvero poco per dirvi no io adesso ho acquistato Xbox io ho che non avrei utilizzato perché per FIFA dovevo aspettare la settimana prossima quindi dovevo forza comprarmi un gioco se la volevo utilizzare come ho preso la console mi hanno detto ok per esigenze redazionali perché sarebbero presi altri 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 redattori giochi per esigenze redazionali hanno detto prenditi Forza Horizon 3 ok prenditi Ricorro e prenditi NBA e quindi praticamente mi sono trovato con con i giochi qui con già dei giochi poi gli altri voi sicuramente vi troverete non avrete questa fortuna mi dispiace però e anche per questo che ho preso un'altra console per coprire ancora più giochi in redazione e poi perché finalmente tra i loro compatibilità è tutto secondo me il catalogo adesso è molto 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 valido ragazzi io mi sto facendo vedere un po' di plat farmi intanto saltellando adesso a sinistra a raccogliere questi oggetti a cavolo sono caduto e dato io vi volevo dire un'altra cosa prima ho preso il discorso molto alla larga avendo io saltato la generazione 360 ragazzi preparatevi una bella serie di live un pochino come dire i live i live saga se vogliamo chiamarli così un po' come ho fatto con il road to uncharted e compagnia bella quindi preparatevi 4 4 non credo lo prenderò per la recensione assolutamente no perché non me lo merito non avendo giocato gli altri prenderò la saga di gears of war prenderò meglio giocherò in live la saga di gears of war magari facciamo una specie di road di gears of war 4 più avanti però adesso no alan wake assolutamente anzi forse farò prima alan wake e poi gears of war quindi insomma preparatevi ho in programma una bella serie di live non so quando purtroppo nel senso che adesso vedete c'è un po' di giochi da fare quindi un po' difficile da portare a complimento la cosa però sicuramente ci sarà l'occasione per fare questi live allora intanto parliamo un altro po' del gioco vedete dietro di me c'erano praticamente dei piccoli robottini che quelli praticamente sono delle batterie delle batterie che vanno messi accompagnati vicino alle porte per per aprirle appunto vedete qui ad esempio mi mancano due batterie devo un pochino andare in giro per la mappa per la zona per trovare le batterie mancanti lì ce n'è un'altra eccola lì ci arrivo o non ci arrivo facciamo così cavolo sono caduto qua questa l'abbiamo presa secondo me è un'altra chissà dove cavolo sta forse sta dietro per la strada che stavo facendo prima quindi preparatevi non vi assicuro insomma con nulla su quando dove e perché di questi live a me piacerebbe molto farli però non vi assicuro niente perché avete visto anche voi ho iniziato la ho iniziato qualche settimana fa il live su fare night dopo il primo episodio diciamo dopo il primo live ho già interrotto il tutto al momento perché tra un gioco e l'altro insomma non non ho potuto fare un altro live dedicato appunto a fare night quindi insomma vediamo un po' vediamo un po' spero spero di non ritardare troppo di fare insomma almeno un appuntamento settimanale magari finisco prima fare night magari e poi iniziamo altri tra l'altro a me mi stuzzica anche l'idea di fare dark souls ve lo dico già da adesso così magari vi divertite vedendomi morire tra atroci sofferenze che lo so perché io ormai lo so che quando le persone vedono i newbie si divertono cioè i il videogiocatore imbruttito gode nel vedere i newbie morire a dark souls perché io lo ammetto in dark souls sono veramente un newbie anzi più adatto come termine qui intanto c'è un altro dungeon vedi li sto scoprendo piano piano vabbè magari questi li vediamo più avanti adesso voglio fare questa missione dicevo a dark souls sono un newbie quindi magari anche lì ci può scappare qualcosa anche se con i souls ho un altro tipo di percorso in mente dato che me l'hanno consigliato in molti magari di iniziare da lords of the fall perché è un po' più semplice un po' più accessibile magari farò così iniziamo i souls like insomma una serie di live su dark souls e compagna cantante poi ora lords of the fall iniziamo da lui che è un po' più semplice un po' più accessibile e poi piano piano aumentiamo di livello con i vari dark souls e bloodborne su ps4 nel caso di dark souls mi sa che qualcuno lo faccia direttamente su xbox one perché il primo con la retrocompatibilità posso farlo solo su xbox one il secondo forse me lo faccio prestare sempre su xbox one e forse anche il terzo non mi ricordo vi terrò aggiornati comunque anche lì credo li fare live su xbox one la dark souls saga purtroppo sì quindi non mi vedrete in faccia quando muoio mi dispiace per così mi dispiace per voi ma è così non vedrete la mia faccia sofferente perché il problema è che io kinect lo vorrei pure acquistare alla fine se lo riesco a trovare usato in mano a qualche amico insomma per vie traverse magari lo riesco anche a trovare ah ma io devo salire lì e prendere l'ultima batteria miseriaccia mi sono dimenticato magari lo riesco anche a prendere un kinect per fare per metterci la faccia diciamo il problema è che xbox one s perché qua si vede la genialità di microsoft dato che il kinect è una periferica così utile a microsoft hanno pensato bene di non mettere su xbox one s la porta dedicata a kinect quindi praticamente io dovrei prima acquistare l'adattatore e poi e dico poi metterci e poi prendere un kinect quindi vedete che giro enorme devo fare e anche questo è un po' che mi frega che mi sta bloccando al momento poi adesso ho speso 300 cocots quindi vorrei vorrei conservare nel momento un po' quei soldi comunque avete visto questi cerchi energetici blu allora praticamente adesso vi spiego a cosa servono praticamente per fare il dash per fare il dash c'è lo scatto in avanti ma anche utilizzare il jetpack insomma per utilizzare le abilità di movimento chiamiamole così il mio personaggio lo può fare solamente uno alla volta quindi posso fare solamente uno di questi e uno di questi però io passando perché l'energia dobbiamo aspettare che l'energia si ricarichi poi passando in quei cerchi energetici praticamente permetto al al jetpack insomma di ricaricarsi quindi posso andare avanti e continuare il platforming diciamo quindi vabbè i classici elementi di un platform diciamo di un gioco platform per permettermi di continuare a saltellare a destra sinistra niente di complesso intanto qui abbiamo sbloccato un altro viaggio rapido e qui c'è violet ok allora qual è l'obiettivo trova il pilone da terraformazione disattivato chi dove sono sono le 4-5 quindi un'altra mezzoletta abbondante in live io la posso fare tranquillamente vorrei mantenermi sotto le due ore perché poi magari facciamo pure forza horizon 3 ma forza horizon 3 ragazzi è disponibile adesso non mi ricordo miseriaccia mi viene da dire di si forza horizon 3 o nba decidete voi magari in chat se volete vedere qualcosa in particolare ma credo di si credo di poter fare forza horizon ah poi ragazzi io c'ho una marea d'indi mi hanno mandato su xbox one che dovete sapere che ogni tanto io da qua sto venendo dove vado che dovete sapere che ogni tanto ci arrivano in redazione una marea d'indie su xbox one una marea di codici dedicati ai giochi indipendenti a volte ci trovano belle piccole perle a volte capitano altre volte invece ci capitano giochi veramente brutti uuu arrivano nuovi mostri qui intanto nuovi robot robot guardiali forse ci diranno che è successo la professione sta a professione su teupo nooo questo c'ha un'energia viola quindi non so cosa significa va tutto qui ah mi aspettavo di più vabbè comunque vi stavo dicendo no ci arrivano ogni tanto un bel bel gruzzoletto di indie che finora si sono divisi appunto i redattori che hanno xbox one adesso toccheranno anche a me quindi insomma ogni tot indie ci spetta un gioco normale diciamo così quindi mi sono preso NBA forza horizon 3 e anche se in questo caso anche per altre esigenze esigenze relazionali come vi dicevo prima però mi è arrivato anche un bel malattolo quindi qualcosa farò vedere anche nei prossimi nei prossimi giorni sicuramente ci sarà la possibilità intatto fatemi vedere qui se live va sempre tutto bene a me pare di sì credo però a me sembra andare tutto bene non mi sembrano esserci troppi problemi quindi direi che la qualità massima va bene direi di sì i caricamenti sono lunghi sono lunghi effetti di pop in pop up le hai previsti un poco eh devo dire che una cosa che mi piace di xbox one è la la gestione della chat su dei live su twitch nel senso che io praticamente ho la chat su schermo però voi non la vedete quindi magari se volete dirmi qualcosa la chat esiste ve lo ricordo io tengo sempre d'occhio la chat che si chiama che sia su ps4 o su xbox one la differenza però qual è è che se su ps4 metto se su ps4 metto la chat su schermo la vedete anche voi è una cosa che trovo assolutamente stupida questa mentre su xbox one se metto la chat a fianco sullo schermo anzi praticamente credo di non poterla togliere voi non la vedete cioè voi vedete comunque il gioco e basta è una cosa che a me questa è una cosa che mi piace però con l'interfaccia della dashboard non mi trovo proprio a mio agio poi sarà che adesso appunto venendo da ps4 che si sviluppa la dashboard di ps4 si sviluppa più orizzontalmente mentre questa si sviluppa in modo più verticale ecco ancora non mi trovo benissimo devo ancora farci l'abitudine quindi non devo dirvi la verità non 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 mi sta soddisfacendo troppo al momento ancora anche anche tutta la parte di condivisione il tasto share tra virgolette che qua non c'è su ps4 questa roba è gestita in modo migliore tanto questi mi stanno a fare il culo anche ecco se voglio condividere uno screenshot sempre non posso condividerlo su facebook anche se la cosa la posso aggirare andando su come si chiama su su one drive questa è una cosa che ha prezzo one drive è una cosa che mi fa molto piacere vedere però però è meno è meno social diciamo xbox one da questo punto di vista e però lo so i menu li sto trovando un pochino macchinosi però ripeto può essere un problema mio perché ho appena ho appena fatto diciamo sto passato cioè la prima volta ormai sono 24 ore che c'ho la console quindi è pochissimo però ecco mi devo un pochino abituare magari con l'interfaccia ancora non riesco a dare un giudizio definitivo o meglio non riesco a giudicarla positivamente al momento però magari poi cambio idea col tempo ecco ok hai visto ma i robot mi piacciono molto perché ricordano molto gli animali fanno diverse forme animalisc fanno così tipo questi che assumono dei leoni sono quelli che assumono il classico scarafaggio che ha e così via quindi devo dire che è una cosa che apprezzo molto intanto questi mi stanno a sparare vedete non sempre vi conviene fare l'estrazione del nucleo andate facciamo entrare di livello vedete parla sempre l'arma di Joel è arrivata a livello 7 quindi non vorrei che sto gioco mi fa fare sto gioco lo affronto sempre con la stessa pistoletta qui un po' triste voglio un po' più di varietà spero di trovarla è troppo profonda ci toccherà girarla questi ragazzi sono tutti i materiali quelli che raccolgo che poi posso utilizzare per per me io volendo adesso posso anche tornare alla base e poi utilizzare magari viaggio rapido per tornare subito qui in una zona adiacente fatemi tornare un attimo dietro fatemi vedere lì in quella mezza porta che cosa c'era vedete che il gioco offre qualche scorcio molto piacevole vedere comunque adesso vabbè l'ho preso da una inquadratura qua non è proprio il massimo però magari se vado in un punto più alto riesco a vedere la zona in modo più chiaro devo dire che il gioco ha qualche scorcio molto piacevole certo essendo il gioco ambientato nel deserto a me qua mi viene mi sento obbligato a fare un pochino il confronto con altri giochi ambientati in location simili parlo di uncharted 3 journey e compagnia cantante la gestione del devo dire che la gestione della sabbia e tutto il resto insomma è sicuramente a favore di altre produzioni troppo però l'impatto ecco non è eccelso però è piacevole dai il comportamento tecnico fa il suo lavoro pur senza impressionare per il voto ragazzi ovviamente è prestissimo ecco Poi l'altra cosa che non ho visto Il personaggio Jule non si può potenziare Se ho capito bene Jule ragazzi non si può potenziare Se ho capito bene Infatti eccola qui Questo è Jule Non si può potenziare Jule Forse l'arma più avanti la posso migliorare Forse però non ne sono sicuro Jule spero di poterla potenziare Un minimo o qualche cosa simile Anche se la sensazione è che il gioco punti Tutto sui robot Sulla costruzione dei robottini e tutto il resto Sui companion chiamateli come volete Dobbiamo trovare il bot batteria Non dobbiamo cambiare Poi ecco la struttura delle missioni Mi sembra sempre un po' ripetitiva Perché ecco Ogni volta devo Raccogliere il robottino Per la Il robottino batteria Insomma metterlo là dentro Accompagnare Insomma Finora lo state vedendo anche voi Prima abbiamo Ci siamo messi a raccogliere le batterie Adesso di nuovo Dobbiamo raccogliere uno Porca di una Puu Gastardo Questo che mi spara Questo sì sarà Il verdotto! Ved我们 Per Ved 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 Eccolo qua E uno Quante sono le bot? Batteria a tre E ne tengo uno solo Ecco qua Tranquillo come sei al sicuro? Allora Andiamo ora qui Questa è una cassa Ah guarda un altro Ma ecco Oltre a poter attaccare i nemici Funziona anche un po' da segugio Nel senso che se io gli indico Ecco faccio l'esempio qui Vedete? Tenendo premuto il tasto X Vedete? Gli chiedo di trovare Oggetti nascosti in zona Lui si mette Se trovo qualcosa Me la scava Ecco l'ultimo Ok Ottimo Ora si parte Ma questo non si muove? Eh mi sa di no Aspettate da loro Aspettiamo Cavolo Non ci arriva Adesso non è la melma Perfetto Sono caduti adesso Come ci arrivo Di non lì sopra? Di qua? Di qua? Vabbè dobbiamo risalire Maledetto me maledetto Ci siamo però Sì 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 ci siamo ci siamo Nessun problema E risaliamo Oh meno male Stavo per svenire se cadeva Perché non me ne rileva di rifarmi tutta la strada Bene continuiamo Guardate ci sono un po' di materiali La galleria è bloccata Ci toccherà trovare un'altra strada Andiamo di qua Chi è che spara? Allora Allora dobbiamo salire di qua Dai dai che ce l'abbiamo fatta Dai E poi ogni tanto si aggrappa Comunque È abbastanza agile diciamo Allora scendiamo giù Dove è di qua Eccoci Oh cavolo Perché non l'ha preso? Qua abbiamo sbloccato il viaggio rapido Perfetto 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 Ogni tanto raccogliere pure i Vedete sti Sti diari Ma non si capisce niente Ok Vedete comunque Quel nemico giallo Era abbastanza forte Comunque era di livello 7 Però io ci ho fatto L'attacco potente Poi ci ho mandato Mech Ci ho fatto l'attacco con Mech L'ho eliminato Abbastanza facilmente Quindi Un minimo Di Come dire Di coordinazione Diciamo Con Con Mech E poi penso anche con gli altri Droidi Ci vuole Ci vuole Allora E poi qua Continuo a distruggere Perché così raccolgo sempre Il nuovo materiale Qui c'è qualcosa Allora Sempre qui Poi anche un'altra cosa Che non mi fanno impazzire Sono le animazioni Queste Le animazioni Davvero Non mi fanno Impazzire Assolutamente No Cioè Guardare Quando Quando Lei c'ha l'arma Quando corre Normale Vabbè È abbastanza sano Però guardare Quando corre Con L'arma Non mi fa impazzire L'animazione Sembra un po' Robotica Qualche animazione Doveva essere Migliorata un po' Secondo me Fa un po' Come dire Old style L'animazione Della corsa Mentre Mentre c'è l'arma Puntata Vedete Fa molto Fa un po' Vecchio stile Un po' So Pure io Vado cercando Il pieno Nel luogo Lo ammetto Però quando Però voglio Comunque Parlare Di questi Piccoli difetti Che secondo me Tecnicamente Ci sono E a volte Su alcune cose Ammetto di essere Un po' Rompipallo Ammetto Perché il Calori Framerate Sono il tipo Che il Calori Framerate Magari Lo avverte Di meno Rispetto A un Comune Mortale Però Le texture No Le texture Le ombre Pixelate È una cosa Che noto Subito Che ne so Il 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 caricamento È una cosa Che non accetto Le compenetrazioni Poligonali Pure È una cosa Che mi fastidiscono Un po' Io lo ammetto Su alcune cose Sono un po' Rompipalle Però È anche vero Che Certe volte Mi capita di vedere Certi obrobbi Orrori Tecnici Che Mi riesco a passarci sopra Qui ad esempio Io una cosa Che odio Sono i caricamenti Lunghi Che ho sempre Odiati E Un'altra cosa Che ho sempre Odiato Le compenetrazioni Poligonali Gli altri Le compenetrazioni Poligonali Alla fine Non rovinano Il gioco Nel senso Che se Non è che La compenetrazioni Poligonali Ti fa Calare Il frame rate O altro Però è un gioco Che vuole essere Non è il caso Di record Un gioco Che vuole essere Un po' Più cinematico Un po' Più cinematografico Vedermi la compenetrazioni Poligonali Mi fa Un po' Storcere il naso Ecco Che abbiamo preso Bene Alcune volte Mi fa fare L'estrazione Rapida Non ho capito Perché Forse perché Il nemico Non è attento Non lo so L'ho preso Un nucleo Perfetto Mi serviva Forse Dai voglio finire Questa Questa missione Finita la missione Finita la missione Che io è live Cavolo Questa non me l'aspettavo Questa non me l'aspettavo Comunque si Finisco il live E giochiamo un po' Credo forza Oh sono messo Poi forza E uscito oggi Non è possibile Mi controlla un attimo Che se lo posso Già utilizzare Andiamo Anche se di forza Posso farvi vedere poco Nel senso che Non perché sono sotto in bar Che praticamente Lo devo appena Lo devo iniziare Quindi per questo Vi farò vedere Un po' Poco Tecnicamente esce il 27 Se non esce Mi ricordavo bene Esce la settimana prossima Vi faccio vedere forza Dopo Intanto il Avanza 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 Magari il live Su forza Lo facciamo alle 18 Magari Così mi prendo Un'oretta Di Un'oretta Qualcosa Di pausa E Facciamo il resto Cavolo Lo volevo distruggere Tutto qui Un'oretta 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 Pompiscatole come fuoco Mamma ragazzi che fastidio che danno Incredibile Indiana CC Non ti sento Cioè non ti sento Non capisco il francese Italiano Proprio non capisco il francese Però se ho capito bene mi chiedi di Un commento sul gioco Però In francese mi sa che non ci capiamo It's an Italian stream Cavolo ragazzi Sta sto leone qua che fa malissimo Ciao 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Io lì in quel caso se avete visto ho cambiato colore delle munizioni. Ho passato al rosso al bianco. Perché il bianco sul blu fa un pochino più male. Rispetto al rosso, ovviamente. Ok, vediamo qui che succede. Dai, cerchiamo di finire subito Eh, non è un bel vedere qui, eh Quell'effetto un po' Che a volte sembra che il gioco non si renda conto che è partita la cutscene Quello che fa impazzire gli altri bot non ha effetto su di lui L'intero pianeta è impazzito Non c'ho un piede Ah, è meteorologa lei Sto cercando pezzi di ricambio per la gamba ma I nucleobot più grossi non si avvicinano al nostro spazio a Samia Io sono troppo lento Non riesco a catturarli E Seth? Ha troppa paura per uscire da solo Uh, vediamo se mi dà Seth Se vuoi Me che io potremmo darti una mano Davvero? Sarebbe ottimo Ecco Oh, mi ha dato un altro pezzo dell'arma che fa? Eh, se non mi sbaglio però sto robottino qua Nella lista dei pezzi di ricambio è nello spazio a Samia Te la manderò via Non riesco a essere robottino qui Poi me lo dà il gioco E se non mi sbaglio stavano in una delle immagini promozionali Ah, che mi ha dato le munizioni blu? Vediamo, vediamo Sì Allora, tocca di passare alla modalità di fuoco blu Il problema sapete ragazzi qual è? E che non è che se io cambio munizioni mi cambia il tipo d'attacco Cioè non mi dà un attacco Ecco io magari Se mi facevi cambiare Ai colpi di tipo blu Magari mi faceva un attacco in stile fucile a pompa Invece no Sono sempre uguali Questo è il problema secondo me Cioè sempre l'attacco mitraglie Tipo fucile del salto Vedete? E l'attacco più potente così In questo caso Questi attacchi qua sono di tipo elettrici Diciamo così Però di base Resta sempre lo stesso Cioè non mi cambia arma Quello è il problema secondo me Chi è? Lui Gli spazzasabbia erano abitati a temporanei Una volta sveglio Il personale avrebbe Scusate Ed edifici vicini alle aree di lavoro Poi volevo prendere pure qualche news Però non c'era molto Ho visto un po' le news Prima di venire live Non ho visto granché Purtroppo Cioè purtroppo Ma anche un po' per fortuna Non ci sono grandi notizie Secondo me tra poco Annuncia un NX E faremo il botto di nuovo Come news Però Al momento diciamo Ragni ibridi Quelli verdi Ragni ibridi Quelli verdi Nessun problema Beh Il problema è che odiano la luce del sole Quindi dovrete cercarli sotto la sabbia E scavare per tirarli fuori Ecco vedete Vedete adesso sto facendo scavare Mac E lui Dai dai trovo qualcosa Mac Mac ha trovato un punto di scavo Vedete quindi adesso dobbiamo fargli scavare Certo trovare il punto di scavo Di scavo Ecco Trovare il punto di scavo Dove ci stava la lamiera di ferro Non è proprio il massimo E niente dai Muoviti Mac Dai Sono curioso degli altri robottini Che abilità avranno In cosa mi aiuteranno E tutto il resto Molto molto curioso Mettiti alla ricerca Oh bravo Beh Mi sa che lo devo ristruggere Vediamo se qui c'è qualcosa Mi sa che ho fatto la grandissima Stupidaggine Non dovevo estruare il nucleo Dovevo ristruggerlo direttamente Tanta però Abbiamo rimediato subito Dai Non dovevo essere Dai dai che è andato Dai che è andato Ok Perfetto Dai ragazzi finiamo Adesso torniamo da Kai Come cavolo si chiama lui E chiudo Poi ci vediamo tra un Direi alle 18 con Forza Horizon Dai un live preserale Però non so io stasera ragazzi C'ho intenzione di darmi a vedere Magnifici 7 Che è un film che attendevo Con grande trepidazione Non vedevo l'ora di andare al cinema Per vederlo quindi forse stasera Vado a vedere quel film Quindi no stasera non ci vedremo Però magari un live Pre preserale Perché no Citando Citando Sheldon Cooper Che alle 18 è la presera Non è Non è Non è pomeriggio Ma è la presera Sheldon Cooper ragazzi Dai vediamo Vediamoci sta scena Qua e E chiudiamo È perfetto È perfetto Jules Grazie Mac Sta buono Mi spiace Non fa niente Non hai mai visto delle gambe così eh Io ho avuto fortuna Me le hanno amputate per fermare l'infezione Il demone di sabbia Epidemia di grado 3 Scoppiò a Chicago E da lì ovunque Scappammo verso una delle zone sicure Ma era troppo tardi Tu invece Est o ovest Ovest Settore sud Ne ho sentito parlare Hai perso qualcuno Mia mamma Scusa davvero Scusa davvero Cavoli Chiedi se qualcuno è morto Porca miseria Ci siamo arrangiati Volevamo venire a Fariden insieme ma Ha lasciato la terra su un'altra nave Deve essere in orbita allora A dormire con gli altri Aspetta la terra a formazione Ehi Seth Dammi un po' più di luce Tieni Prova con questo Dove hai trovato quel nucleo? In realtà ne ho trovato più d'uno Ma non so cosa siano Sono nuclei prismatici Tecnologia top secret Ne avevo solo sentito parlare Hanno sistemato il pilone E funzionano con altri sistemi di Fariden Se ne avessimo altri Forse potremmo riattivare la terra a formazione O forse fare molto di più Ma non sono certo Forse alla fonderia di nuclei Troveremo le risposte Mi aggiusto le gambe e ti aspetto là Nel frattempo Seth Ti accompagna giù Oh andiamo con l'altro robottino Tranquillo Sei al sicuro con noi? Grande No devo dire che il character design dei robot È una cosa che trovo molto molto ben fatta Poi anche il fatto che posso Come ho già detto all'inizio del live Posso L'estetica, il colore Le cose comunque a me Apprezzo io Le apprezzo queste piccole cose Certo poi ovviamente i pezzi Variano anche Cambiano anche la potenza dei robot Quindi E tenerne conto di queste cose Voglio solamente vedere cosa fa cosa si fa con la c***a Con una c***a come cavolo si chiama lui Con l'altro robot Vediamo che abilità c'ha e poi chiudiamo il live Il nucleo bot Seth si è unito alla squadra Perfetto Premio lb per passare da me a Seth Vedete Ah vedete Posso cambiare l'uno all'altro Forza Seth Lo faremo insieme Tanto abbiamo preso un altro obiettivo Vedete in combattimento che fa Li spara Vedete In combattimento lui li spara Vedete Fa un attacco Bello In combattimento è molto diverso da me Forse ecco Non ci sarà una grande varietà Di Di armi Però Il gioco punta molto alla varietà di Di Dei robot Diciamo Ok Ok Lui in combattimento li spara Si li spara Poi voglio vedere se cosa fa Il platform Se fa qualche altra cosa E poi chiudiamo Chiudiamo il live ragazzi Oh Qua intanto c'è qualche altra bestiolina Però mi conviene passare A me Perché Per il combattimento Al momento lui è poco È più adatto Ah cavolo Stavo per fare l'estrazione Vabbè Comunque il gioco C'ha un bel po' di cose Da Da esplorare Se invece mettete Con la mappa Aperta Open world Offre Diverse cose Devo dire Ah ecco Vedete Vabbè Praticamente fa una specie di rampino Ah ecco qua Praticamente fa da scala Rampino Niente di Però Ok dai Io direi che Con questa vista Dall'alto Qua Ce ne possiamo Ci possiamo salutare Accogliamo questo Anzi Vogliamo fare una cosa Velocissima Vogliamo vedere la sua La personalizzazione Di set Facciamo così Torniamo allo Spazza sabbia Così vediamo un pochino Come si può personalizzare E chiudiamo il live Davvero Così Praticamente vi ho fatto Vedere la personalizzazione Di un altro robot Come funziona Credo sempre allo stesso modo Però giusto Per rendercene conto Ecco I caricamenti Ci mettono tempo Maledetti caricamenti Allora ragazzi Rimaniamo così Per le 18 Forza Horizon 3 C'è però Per ora Da tenere conto Io non so se il gioco Mi è già partito Mi parte Nel senso che Se non mi sbaglio Abbiamo ricevuto un codice Quindi non dovrei avere problemi Però Può essere che Praticamente io ho fatto Al momento solo il preload Quindi il gioco non mi parte In tal caso Faccio NBA Comunque vi terrò aggiornati Su console tribe Tra pochissimo Il tempo di chiudere il live E fare un articoletto Dei ricardo Ecco Ci metterò Pochi Poco tempo insomma Allora vediamo un pochino Ecco qui Abbiamo spdr Cosa gli possiamo mettere Schema del corpo Eccolo qua Eccolo qui Cosa che gli possiamo mettere Ah eccolo Dov'è Ah ecco qua Sì Comunque alla fine È sempre quello C'è da dire questo Non cambia di molto Però adesso Vedete Io ho una marea Di nuclei Adesso li posso potenziare Un bel po' Tipo posso decidere Magari con Mech Quando sto attaccando Appunto tutto su lui Magari Infatti questo Lo voglio far arrivare A 90 ragazzi Ok Adesso potenziamo anche Un pochino set E lui ad esempio C'ha meno energia Quindi puntiamo Tutto sull'energia Facciamo così Dai Poi Altra cosa Che mi ero dimenticato Di dirvi Che ogni robot È potente O debole Contro un altro Un po' come i pokemon Diciamo così Infatti vedete A sinistra Nella sua scheda Se così possiamo chiamarla Cioè Da una pausa Sopra bonus C'è scritto Forte contro Debole contro Vedete Quindi Anche di queste cose Bisogna tenerne sempre Conto Ragazzi Io direi che così Va bene Poi insieme a un altro Pomec Voglio far arrivare A 100 Vediamo se ce li riesco Sì Assolutamente Ok E nulla ragazzi Io quindi Vi saluto qui Ci vediamo Tra pochissimo Alle 18 Tra un'oretta E poco più Con NBA 2K17 O Forza Horizon Anzi O Forza Horizon O In alternativa NBA 2K17 Ci vediamo Tra poco Dai A più tardi O forzaKim O forza Horizon